Ragazzi e ragazze del mondo della formazione professionale, non c'è dubbio che voi tra tutti siete speciali. Voi siete e dovete essere i preferiti. Questo perché? Vino per la vostra semplicità e il fatto che volete con le vostre difficoltà come tutti, dire cosa posso fare di buono e di utile con la mia vita. Carissimi giovani, già questo è straordinario e se vi fate la domanda vale la pena? Continua a dire vale la pena, vale la pena. Io sono felicissimo che questa casa di Don Bosco aiuta alla vita di uno, due, tre o trenta o sessanta giovani. È per questo che siamo nati carissimi giovani. Vi trovate in un tempo dove non fare un'altra cosa che sia buona per voi, significa condannarsi a non avere altre opportunità. Io vi incoraggio con tutto il cuore a dare il meglio di voi in quello che state fare. Perché farai del tuo dono naturale, la tua vocazione e anche il tuo lavoro. Però porterei con te questo zaino che non si vede e che parla di cultura dello sforzo. Però cultura di questo faccio. Carissimi giovani, il futuro si costruisce oggi per averlo domani. I giovani del mondo del lavoro, i giovani della formazione professionale avete il profilo dei preferiti di Don Bosco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.